Viviamo in un mondo che ha delle diseguaglianze che sono davvero grandi e purtroppo crescenti. Viviamo in un mondo nel quale ci sono centinaia di milioni di persone che soffrono la fame, che non hanno accesso all'energia, che hanno difficoltà a vivere una vita di dignità. Viviamo in un mondo nel quale l'ambiente è sempre più distrattato e rischiamo davvero di avere un pianeta che già quest'anno, l'anno scorso, nel 2018, in agosto, avevamo già superato le riserve che il nostro ambiente ci dona e quindi consumiamo l'ambiente.